Buongiorno a tutti, benvenuti alla decima edizione del Salone del Risparmio, in particolare alla prima delle due conferenze dedicate alle novità sulla previdenza complementare. Innanzitutto desidero ringraziare gli sponsor di questa conferenza che ci offrono questo importante momento di confronto tra gestori e investitori istituzionali che ormai è diventato un incontro ricorrente qui tutti gli anni al Salone e in una nuova cornice normativa che si sta delineando proprio in questi mesi alla luce del recepimento della direttiva IORP2. Come sapete la direttiva è stata recepita in Italia ai primi giorni dell'anno con un decreto legislativo e proprio in questi giorni, pochi giorni fa, l'autorità di vigilanza, la Covip, ha pubblicato in consultazione le sue prime linee guida. La direttiva IORP2 introduce importanti novità nel mondo della previdenza complementare, soprattutto per quanto riguarda l'attività trasfrontaliera, dei fondi pensione, per quanto riguarda gli obblighi informativi ai partecipanti e in particolare per quanto riguarda il sistema di governo dei fondi pensione. Questo riguarda in particolare sicuramente l'attività dei fondi negoziali e dei fondi preesistenti con personalità giuridica ma in realtà impatterà anche sull'attività dei fondi pensione aperti e questo lo vedremo poi nei prossimi mesi. Ci aspettiamo che il fatto che queste modifiche al sistema di governo dei fondi pensioni potranno costituire e offrire ai fondi pensione nuove opportunità per quanto riguarda l'accesso ai mercati, quindi non solo per quanto riguarda l'accesso a strumenti finanziari negoziati ma in particolare mi riferisco a quegli strumenti un po' più complessi come gli strumenti illiquidi, cosiddetti strumenti alternativi. Queste attività chiaramente richiedono, hanno maggiori difficoltà per quanto riguarda gli investimenti e richiedono funzioni e conoscenze più complesse da parte dei fondi pensioni. Noi abbiamo il piacere di avere oggi qui con noi il direttore generale della Covip, la dottoressa Lucia Anselmi che ci illustrerà i contenuti più rilevanti delle linee guida e quindi è veramente una bella occasione proprio nell'ambito del salone avere la Covip che insomma per la prima volta ci fornisce qualche indicazione sulle loro linee guida e su quello che ci aspetta nei prossimi mesi. Seguirà poi la tavola rotonda che è coordinata da Vitaliano Dangerio e scusate prima non ho detto i nostri sponsor, emozionata dalla gente che c'è qui in conferenza, sono Aberdeen Global Investors che è qui rappresentata nella persona di Laura Tardino, Arcafondi Sgr rappresentata da Antonio Barbieri e Stay Street Globe Advisors che ci raggiungerà a breve Antonio Iaquinta. Allora io invito Lucia qui sul palco, vi ringrazio a tutti e buona conferenza. Intanto buongiorno, grazie ad assorgestioni di questo invito in occasione di questo decennale che cade per la prevenenza complementare in un momento importante, un momento di passaggio che è quello del ricepimento della direttiva IORP2. La direttiva, faccio una carrellata di contenuti per allineare le informazioni prima di arrivare a rappresentare quali sono state le scelte che l'autorità di vigilanza ha ritorato di fare a fine dell'attuazione di queste previsioni. La direttiva è una direttiva del 2016, è la seconda direttiva in materia di previdenza complementare ed è una direttiva di armonizzazione minima, quindi è una direttiva che sostanzialmente si occupa di governance, si occupa di trasparenza ma non tocca altri temi che sono ad esempio l'adeguatezza delle pensioni, non tocca l'armonizzazione fiscale, non tocca quella legge e legislazione sociale del lavoro che rimane a pannaggio dei singoli stati membri. La direttiva è stata recepita in Italia con un decreto del dicembre 2018, il decreto 147 e abbiamo messo in consultazione qualche giorno fa un primo provvedimento attuativo, sono delle direttive rivolte a tutte le forme pensionistiche complementari. Con quale finalità? La finalità è quella di coprire sperabilmente a 360 gradi tutti gli ambiti di novità che la direttiva va a toccare, dare ai fondi pensione delle indicazioni sperabilmente chiare e per quanto possibile operative su che cosa ci si aspetta che facciano e quindi quale percorso ci si aspetta che fin da subito possano intraprendere, individuare delle modalità con le quali i fondi pensione possono interrogarsi ognuno al proprio interno su come gli obiettivi della direttiva possano essere perseguiti e quindi gli adempimenti necessari debbano essere posti in essere e dare anche ovviamente delle scadenze che ci sono sembrate in qualche modo doverose in relazione, non ravvicinate, quindi doverose in relazione all'impegno che immaginiamo i fondi pensione dovranno in qualche modo soddisfare ma anche ragionevoli per consentire a queste norme di entrare effettivamente in vigore, quindi di essere effettivamente attuate in tempi che siano ragionevolmente coerenti con l'esigenza di adeguare il sistema nazionale. Ora veniva detto in sede introduttiva, la direttiva tendenzialmente tocca due grandi temi, il tema della governance e il tema della trasparenza. Io credo che questa sistematizzazione che può sembrare un po' semplice però concettualmente forse ci aiuta in questa presentazione diciamo veloce. Due temi rispetto ai quali la prima domanda che credo ci si debba fare, ma anche perché effettivamente in molti in questi mesi ce l'hanno fatta, ma il sistema italiano rispetto a questi due grandi temi, rispetto alla prospettiva che la direttiva va a tracciare, come si pone? Siamo lontani? Siamo vicini? Possiamo ritenerci già adeguati? Abbiamo da fare ancora un percorso lungo? Io credo che su questo interrogativo dobbiamo un po' sciogliere qualche riserva e fare chiarezza perché è capitato di sentire un po' voci discordanti. Da una parte c'è chi dice ah ma il sistema è già adeguato, siamo comunque all'avanguardia, effettivamente non c'è da fare quasi nulla e dall'altra si parla con i fondi di pensione che sono non voglio dire disperati ma diciamo ragionevolmente preoccupati perché sentono di avere diciamo da fare un percorso importante. E allora dove sta la realtà o almeno dal nostro punto di vista? Noi rispetto a questi due temi, ripeto, governance e trasparenza, secondo me dobbiamo fare due discorsi distinti. Per quanto riguarda la governance ed entreremo tra un pochino su quelle che sono le caratteristiche del modello di governance che la direttiva va a tracciare, noi siamo a un punto intermedio, in che senso? Sicuramente la direttiva non definisce un modello di fondo pensione che sia sconosciuto al sistema italiano. Noi abbiamo dei fondi pensione che sono molto strutturati, che hanno dimensioni importanti, che hanno già fatto delle scelte di organizzazione interna molto rigorose, molto serie, molto responsabili e che quindi sicuramente loro sono più vicini al modello di governance che la direttiva traccia. Però se anche solo guardiamo, come veniva ricordato in apertura, i fondi pensione negoziali e i fondi pensione preesistenti che più direttamente sono riguardati dall'impatto di questa direttiva, poi ci sono anche i fondi aperti ma lo vedremo successivamente, noi sappiamo che il nostro mondo di fondi pensione negoziali e fondi pensione preesistenti è un mondo molto variegato al proprio interno e la sfida che questa direttiva in qualche modo ci pone è portare tutto il sistema ad integrare questo nuovo modello di governance. Allora siamo vicini o siamo lontani? Forse la risposta giusta è dipende. Sicuramente questo diventa un'occasione perché ogni fondo e come sistema nel complesso si faccia una riflessione per misurare la distanza rispetto a quello che la direttiva chiede. Sulla parte della trasparenza invece il discorso è molto differente perché noi come sistema Italia ce lo riconoscono a livello europeo siamo diciamocelo all'avanguardia. Quello che siamo riusciti a portare anche lavorando direttamente nei tavoli su cui insomma in qualche modo si è formata la direttiva è stata un po' l'esportazione del nostro modello. Il modello di trasparenza della direttiva nessuno lo tace, nessuno lo nasconde è il modello italiano. E allora è chiaro che se guardiamo al profilo di trasparenza allora sì possiamo dire che effettivamente abbiamo un percorso da compiere che è assolutamente rassicurante e limitato. Peraltro ci sono degli adempimenti nuovi che la direttiva introduce li dico ora ma per non riprendere il tema più avanti che è la trasparenza mirata a chi è prossimo al pensionamento oltre che la trasparenza mirata al pensionato cerchiamo di governare questi temi che sono elementi di novità però come ben immaginate rispetto alle note informative, le comunicazioni periodiche che è la proiezione delle prestazioni che peraltro in Italia i fondi pensioni fanno dal 2008 capite che effettivamente siamo fieri di aver esportato un modello che a livello europeo ci è stato riconosciuto come buono. Detto questo torno sulla governance perché credo che invece lì sia un po' il tema di maggiore novità. Allora la governance si può declinare in molti modi ma io preferisco seguire quello che è proprio l'impostazione del decreto che si apre con una norma che secondo me è veramente l'architrave di questa nuova disciplina una norma che è relativa al sistema di governo una norma che dice che ogni fondo, tutti i fondi devono dotarsi di un adeguato sistema di governo che possa garantirne, assicurarne la sana e prudente gestione e chiede che i fondi abbiano una struttura organizzativa che sia trasparente ed adeguata con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace di trasmissione delle informazioni. Ecco io credo che anche solo questo principio che è un principio di buona amministrazione è un principio di buona gestione assurdo a livello di norma primaria già questo vale secondo me tutta la direttiva perché è esattamente il punto su cui i nostri fondi pensione da questo momento con, diciamo, non che non l'abbiano fatto in passato perché non è questa una valutazione devono misurarsi, è il punto da cui si deve partire perché una corretta, consapevole, adeguata, proporzionata allocazione di funzioni e di responsabilità è la base per una solidità gestionale per una affidabilità nelle attività e quindi diciamocelo anche per una credibilità. Questo percorso in qualche modo noi come autorità un pochino l'avevamo, come posso dire, anticipato ci sono dei documenti che rispondono a questa logica e che abbiamo chiesto ai fondi pensione di fare già da un po' di tempo, peraltro proprio mirati alla gestione finanziaria perché il documento sulla politica di investimento dovrà un po' essere rivisto ed aggiornato aveva proprio questa funzione cioè quella di, non voglio dire standardizzare ma sicuramente mettere il fondo pensione in condizione di fare una riflessione seria organizzata, ordinata sull'organizzazione delle attività relative alla gestione finanziaria. Che cosa ci porta di nuovo questo sistema di governance? Ci porta, ed è questo anche tema di cui molto si ribatte le cosiddette funzioni fondamentali funzioni fondamentali che non sono un'invenzione della direttiva agli ORPE 2 prendiamo a prestito questo concetto da esperienze abbastanza limitrofe abbiamo il mondo delle assicurazioni abbiamo funzioni fondamentali così qualificate in settori in qualche modo contigui. Che cos'è una funzione fondamentale? Allora una funzione fondamentale non è una funzione che di per sé non può mancare in un fondo pensione perché altrimenti il fondo pensione non può svolgere la propria attività e perché dico una cosa che potrebbe apparire ovvia? perché molti si sono meravigliati anche in sede di predisposizione del decreto di recepimento quindi del 147 del fatto che all'interno delle funzioni fondamentali non fosse inserita la funzione finanza e sembrava quasi una cosa un po' strana. Nei fatti il punto è questo che le funzioni fondamentali come sono declinate nella direttiva e come poi sono state riprese nel nostro decreto di recepimento sono, ce lo ricordiamo, la funzione di audit e di revisione interna la funzione di risk management e laddove il fondo copra dei rischi biometrici la funzione attuariale non sono propriamente funzioni operative cioè perché il fondo pensione faccia il fondo pensione non dobbiamo essere noi a dire che deve avere una funzione per la raccolta e la valorizzazione dei contributi ovvero per appunto gestire le risorse è normale che ce le abbia ma le funzioni fondamentali rispondono ad un'altra logica è come se fossero un po' nel complesso una sorta di sistema di protezione del fondo più o meno tutte legate a qualcosa che sa di rischiosità e quindi è una sorta di potremmo dire una sorta di sistema immunitario di cui il fondo pensione sostanzialmente si dota per poter controllare monitorare le funzioni operative e tendenzialmente avere prontezza di intervento e chiarezza di intervento nel momento in cui si dovesse determinare qualche anomalia di saldiniamento addirittura criticità alle funzioni fondamentali si accompagna a una disciplina specifica perché queste funzioni non soltanto devono esserci secondo le modalità con cui vengono declinate nella direttiva ma devono essere affidate a soggetti che non solo devono essere competenti anche i soggetti che svolgono le funzioni legate alla funzione di finanza devono essere competenti questa è una regola sulla quale sperabilmente non serve una norma ma devono essere professionalizzati cioè devono disporre di specifici requisiti di professionalità che saranno emanati con un decreto del ministro del lavoro al pari dei requisiti di professionalità degli altri esponenti dei fondi ma non basta sono soggetti che portano in proprio una responsabilità perché hanno il dovere di segnalare agli organi competenti sicuramente il consiglio di amministrazione per la revisione interna ovvero eventualmente il direttore generale secondo quello che ciascun fondo deciderà in relazione al proprio assetto dovranno segnalare le risultanze delle verifiche effettuate ed eventualmente le criticità su cui è necessario intervenire ma questa responsabilità vi è più rilevante se pensate che laddove il soggetto che chiaramente deve essere un soggetto o un organo che ha il potere poi di intervenire a rimuovere la criticità e questo lo dico perché è ovvio che nel descrivere il sistema di governo i fondi pensioni questa cosa se la devono porre in maniera seria se quell'organo che è stato in qualche modo ricettore della criticità non opera non si adopera per poterla rimuovere questo soggetto è dotato di un potere di segnalazione diretta all'autorità di vigilanza e questo elemento è un elemento totalmente nuovo cioè finora non c'è mai stato un soggetto interno al fondo escluso il direttore generale o il responsabile su cui ci soffermeremo tra un pochettino che appartenendo all'entità del fondo avesse un potere diretto di segnalazione salvo chiaramente gli esposti che insomma può capitare ma normalmente non capita ha un potere diretto di segnalazione e in relazione a questo potere diretto di segnalazione è tutelato è tutelato un po' al pari di quello che sarebbe un whistleblower salvo che non è anonimo per evidenti motivi che fa la segnalazione in funzione della carica che ricopre e quindi c'è un apparato di tutela intorno a questo soggetto che in qualche modo ne garantisce la funzione funzione garantita anche dalla circostanza altro elemento nuovo che questo soggetto se questa segnalazione all'autorità di vigilanza non la fa pervenire poi l'autorità di vigilanza in qualche modo lo accerta può essere direttamente sanzionato allora dire che cos'è funzione fondamentale e che cosa non lo è non è una cosa così libera diciamo che c'è tutta una disciplina ed un apparato di tutela e di garanzie che in qualche modo serve a veicolare un'attenzione particolare un prestito particolare rispetto a determinate attività piuttosto che ad altre che invece seguono chiaramente i livelli di responsabilità interni di ciascun fondo questa circostanza quindi la presenza di queste funzioni fondamentali sul cui contenuto non è questo il momento diciamo troppo tempo richiederebbe di soffermarsi ha peraltro consentito di fare due passaggi che velocemente mi fa piacere rappresentarvi allora il primo è che aver rafforzato in questo modo la governance del fondo pensione rispetto a tutta una serie di presidi diciamo relativi all'evitare o monitorare gestire e risolvere le criticità ha consentito una semplificazione della governance attuale perché non vi sarà sfuggito che è venuta meno una figura all'interno dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensioni preesistenti che la figura del responsabile del fondo quindi con il decreto di ricepimento della IORP il responsabile del fondo pensione negoziale e del fondo pensione preesistente non esiste più ed è un primo punto importante è stata resa obbligatoria ma di questo il sistema italiano sostanzialmente risentirà poco la figura del direttore generale che già lo era per tutti i fondi più evoluti e moderni ma poi diciamo sostanzialmente per tutti ma adesso lo ha anche per i fondi diciamo di minore dimensioni e quelli soprattutto preesistenti che magari rispetto a questo non avevano ancora diciamo fatto un passaggio parallelamente ci si deve interrogare su che cosa succede nella governance dei fondi aperti perché fino adesso non abbiamo parlato esclusivamente di governance dei fondi negoziali preesistenti allora su questo le norme sono molto chiare la norma principale quella che attiene al sistema di governance è sostanzialmente quella che dice che anche i fondi pensione aperti che sono iorpe perché possono raccogliere adegioni collettive e quindi possono anche raccogliere adegioni su base trasfrontaliere e quindi rientrano a pieno titolo nell'ambito di applicazione della direttiva anche loro devono fare delle scelte di governance in linea con quelle che la direttiva in qualche modo descrive ma come lo fanno e qui la norma è chiara dice lo fanno in coerenza con gli assetti organizzativi propri dei settori di riferimento un obiettivo quindi è quello di assicurarsi le funzioni assicurare l'efficacia dei modelli di governo ma evitare duplicazioni evitare diciamo oneri sul sistema delle SGR delle banche delle assicurazioni che già per altre discipline sono chiamate ad assicurare la presenza di queste funzioni e la modalità con cui questo avverrà è demandata delle istruzioni che la Covip dovrà emanare sentite le autorità di vigilanza sui soggetti promotori e quindi su quello in parallelo con le nostre direttive che sono e nel corso della consultazione abbiamo avviato dei contatti con Banca d'Italia Consob e Ivas sappiamo di dover in qualche modo convergere rispetto ad una modalità che sia chiaramente rispettosa della norma che richiamavo e l'idea è che questo pacchetto vada poi ad integrare la consultazione magari un pochettino più avanti in maniera tale che le direttive alle forme pensionistiche di cui abbiamo parlato in apertura possano poi costituire un pacchetto completo che si rivolge chiaramente a tutti i fondi rispetto a questo tema che sembra veramente un tema un po' impegnativo sicuramente sfidante la direttiva offre un po' delle attenuazioni perché ad ogni piesso spinto nelle norme della direttiva come anche nelle norme del decreto 147 è richiamato il cosiddetto principio di proporzionalità che cosa vuol dire applicare un principio di proporzionalità vuol dire prioritariamente che non c'è un modello unico di riferimento non c'è un modello standardizzato non c'è un vestito che in qualche modo viene imposto al fondo pensione ma ogni fondo pensione viene chiamato nella sua libertà ma nella sua serietà e responsabilità a cucirsi addosso il vestito più adatto il principio di proporzionalità consente di modulare gli adempimenti in funzione della dimensione della natura del fondo delle caratteristiche dell'attività e quindi effettivamente è correttamente quell'elemento in base al quale ogni fondo riesce a fare le scelte che sono più utili per lui fermo restando chiaramente l'adempimento da porre l'obiettivo da conseguire le direttive su questo hanno fatto una scelta o forse un'interpretazione molto chiara allora il principio di proporzionalità non vuol dire esonero cioè non abbiamo ritenuto che applicare un principio di proporzionalità volesse dire alcuni fondi lo fanno e altri fondi non lo fanno questo è un tema che peraltro anche nel corso della consultazione ci è stato più volte sollecitato ma nessun fondo è esonerato che cosa deve essere proporzionata la modalità e quindi ci saranno sicuramente n possibili modelli di governo tutti in qualche modo ragionevolmente da prendersi in considerazione ma tutti parimenti efficaci nel perseguire l'obiettivo di avere un sistema di governo che sia efficiente e che assicuri tutto quello che abbiamo detto soltanto per alcuni fondi abbiamo detto chiaramente nelle direttive che non devono fare diciamo adeguamente in materia di governance sono i fondi per i quali non c'è una prospettiva di vitalità i fondi che sono in liquidazione o i fondi per i quali sono previste entro l'anno delle operazioni di riorganizzazione che li portano ad essere magari incorporati in fondi più grandi noi seguiamo queste operazioni e sappiamo che soprattutto nel mondo delle banche e delle assicurazioni insomma nei grandi gruppi sono operazioni in corso il principio di proporzionalità qui impone che non si facciano fare scelte prospettiche a chi la prospettiva evidentemente in qualche modo l'ha vista già esaurirsi questo è l'altro elemento che può aiutare a dare corpo a questo principio di proporzionalità è la esternalizzazione delle funzioni 5 minuti l'esternalizzazione delle funzioni perché la direttiva consente grande libertà nell'attribuire all'esterno quindi a soggetti qualsivoglia attività fin anche le funzioni fondamentali quindi il fondo pensione con la propria dimensione con la propria organizzazione non ritiene proporzionato anche qui potremmo dire fare diciamo seguire tutte queste vicende al proprio interno può esternalizzare però anche sull'esternizzazione la direttiva impone di essere molto seri e quindi dispone che al pari di quello che non ve l'ho detto ma ve lo accenno sulle funzioni fondamentali il fondo si deve dotare di politiche scritte anche sull'esternalizzazione bisogna che il fondo abbia delle politiche scritte che consentono di comprendere che cosa di comprendere quali sono i motivi per i quali il fondo ha ritenuto di esternalizzare quali sono i criteri sulla base dei quali è proceduta l'esternalizzazione quali sono le modalità con cui controlla la correntezza e la qualità del servizio esternalizzato quali sono i poteri che ha sul soggetto esternalizzato e nei fatti mantenendo pienamente la responsabilità anche per le attività che vengono date all'esterno e in un contesto che nel complesso mira anche a rafforzare su questi temi le funzioni di vigilanza e che quindi vede anche la Covip ovviamente chiamata in causa per affinare in qualche modo le proprie procedure alla propria capacità di garantire efficienza efficacia effettività soprattutto alla funzione dei fondi pensione le norme attribuiscono alla Covip un potere diretto di interloquire con i soggetti a cui il fondo ha esternalizzato le funzioni fino anche a fare ispezioni in loco quindi come vedete non è esattamente un quadro che va per tutto in continuità con l'esistente ma ci sono dei tratti di novità che sono di grande rilevanza e di grande impatto ovviamente quello che stiamo dicendo sulle esternalizzazioni lo preciso sempre perché faccio tesoro delle domande che ci sono arrivate nel corso di questi mesi riguarda ciò che il fondo può fare in proprio e quindi se il fondo un fondo pensione negoziale stipula una convenzione di gestione con una delle vostre società per la gestione delle risorse quella non è un'esternalizzazione perché lì il fondo non ha possibilità di scelta parimenti le convenzioni con le banche depositarie non sono un'esternalizzazione questo per chiarezza laddove le attività vengano esternalizzate a soggetti che sono sottoposti a vigilanza prudenziale ma attività differenti da quelle che vi ho appena citato quindi l'attività di vigilanza è un'attività che in qualche modo si avvale anche della collaborazione ovviamente dell'autorità diciamo che vigila sul soggetto a cui la funzione è stata esternalizzata credo che due cose valga la pena insomma rappresentarvi per richiamare la vostra attenzione su un testo che ripeto è un testo in consultazione pubblica che quindi voi trovate sul sito della Covip la consultazione pubblica si chiuderà alla metà di maggio quindi abbiamo dato anche un tempo congruo nella consapevolezza dell'importanza di questo momento e perché vogliamo che poi il sistema parte in maniera come posso dire principalmente ordinata e chiara quindi potete rispondere chiaramente alla consultazione per il tramite delle vostre associazioni oppure magari se ci sono anche soggetti consulenti eccetera anche direttamente ecco voi troverete due cose in più forse rispetto in più o meglio una declinazione di quello che finora vi ho detto su governance e trasparenza per quanto riguarda la trasparenza troverete una parte dedicata ai siti web allora i fondi pensione sono obbligati ad avere dei siti web se hanno delle dimensioni tutti i fondi negoziali i fondi pensioni i fondi pensioni aperti e i PIP ovviamente i fondi preesistenti erano obbligati se avevano un numero di iscritti superiore a mille e praticamente adesso l'obbligo del sito web insomma si estende al netto dei fondi che non hanno prospettiva di vitalità come dicevamo prima però c'è un passaggio importante cioè che praticamente si vuole che i siti web diventino non soltanto il contenitore delle informazioni non soltanto il contenitore nel quale inserire documenti nelle news o cose del genere ma diventino una modalità moderna e sperabilmente efficace di interlocuzione con gli iscritti a partire dal momento dell'adesione quindi trovate un incoraggiamento a sviluppare anche raccolte di adesione online molte società già lo fanno anche molti fondi già lo fanno ma è una modalità con la quale diciamo forse si trova una interlocuzione con gli iscritti che raggiunge meglio soprattutto platee più giovani e probabilmente sollecitando un interesse che ancora un pochettino nel sistema stenta ad avere una dimensione adeguata però nelle direttive trovate anche un'altra cosa cioè il sito web all'interno di un progetto di informatizzazione dei fondi pensione quindi non soltanto il sito web come strumento attraverso il quale l'aderente possa eventualmente anche fare la richiesta di prestazioni oppure semplicemente dotarvi di una PEC che alcuni fondi ancora non hanno e ci arrivano a noi ogni tanto comunicazioni di iscritti che dicono ma perché li dobbiamo andare la raccomandata con la ricevuta di ritorno insomma ma anche un'informatizzazione dei processi interni che ovviamente favorisce favorisce diciamo l'ordinato svolgimento dei processi favorisce controlli doverosamente in questa sede un passaggio sulle gestioni allora lo diceva prima Arianna Immacolato è chiaro che un sistema di governance più forte più solido anche con relativamente i profili relativi alla gestione finanziaria mette il fondo pensione in condizione di valutare con maggiore tranquillità forme di investimento chiamiamola ancora seppure diciamo utilizzando un termine di risolvato alternativo d'altronde non ci nascondiamo che in questo momento è un po' doveroso per i fondi pensione interrogarsi su forme di investimento di questo tipo considerato che chiaramente i mercati li conoscete assolutamente bene i tassi sono quelli che sono ed effettivamente c'è una dinamica di cui credo nell'ambito della tavola rotonda potranno essere date informazioni su quali sono sostanzialmente le attitudini le sensibilità con cui il fondo pensione si stanno muovendo in questa direzione però la direttiva introduce anche un tema che è quello dei criteri ISG che è un tema purtroppo moderno nel senso che è un tema che in realtà avrebbe potuto essere sviluppato molto in anticipo già la IORP1 ne parlava la IORP1 del 2003 le direttive COVID già contemplavano spazi di trasparenza quantomeno per i fondi pensione rispetto al fatto di dotarsi o meno di criteri di selezione ISG nell'ambito degli investimenti ma adesso cambia completamente la prospettiva anche questo abbiamo cercato di cogliere nelle direttive perché la prospettiva alla quale la direttiva ci apre è quella di una integrazione dei criteri ISG sicuramente nella gestione dei rischi e questo fa parte di uno sviluppo culturale al quale la società prima ancora che i fondi pensione ma insomma tutti siamo in qualche modo da cui siamo interessati perché l'idea della sostenibilità è un'idea che ormai diventa sempre più pervasiva l'idea che la sostenibilità crea valore e che quindi non è un problema diciamo di moda è un problema economico ovviamente questo cosa determinerà all'interno dei fondi pensione determina come immagino anche per altri investitori intanto una forse necessario spostamento di orizzonte perché la sostenibilità si vede nel lungo periodo e se noi come molto spesso i mercati ci obbligano a fare forse anche un'informativa a volte così un po' frettolosa ci induce a fare continuiamo a tenere l'attenzione sui rendimenti di breve periodo noi il tema della sostenibilità non lo coglieremo però nel lungo termine la sostenibilità è un elemento che entra a pieno titolo nella gestione dei rischi entra anche nella definizione delle strategie di investimento sicuramente sì alcuni fondi già lo stanno facendo io chiudo senza voler rubare il tema che immagino sarà anche della prossima tavola rotonda ricordandovi che la direttiva IORP2 e queste direttive perché poi mi chiedeva il dottor D'Angelo mi dice però ci dica che cosa c'è dopo ecco su DSG dopo c'è una regolamentazione europea che sta ancora in fase di gestazione quindi il tema noi adesso lo introduciamo in maniera se vogliamo anche provocatoriamente la gestione dei rischi deve cominciare ad attrezzarsi ma sappiamo che bisognerà riprenderlo nel frattempo facciamo cultura e allora diciamo questa carrellata mi scuso anche per la frettolosità e la velocità con cui l'ho fatta però volevo darvi praticamente il segnale di che cosa ci aspetta sicuramente il sistema deve essere sollecitato non dobbiamo pensare alla IORP2 come l'adempimento l'ennesimo adempimento a cui rispondere ma come un'opportunità di crescita di crescita soprattutto di sensibilità e di cultura noi come autorità di vigilanza speriamo di poter giocare un ruolo importante siamo sempre a fianco dei fondi nei momenti di passaggio e cerchiamo di fare in modo che questo avvenga che questa sfida venga colta nel modo più profiguo possibile possiamo dire per la società per i nostri iscritti e per il paese buongiorno a tutti allora tocca a me sono stato chiamato in causa direttamente dalla dottoressa Anselmi ma non per sollecitare la Covid ma perché comunque l'argomento ISG interessa è un po' il tema poi del salone del risparmio e mi interessa mi sta particolarmente a cuore comunque grazie bravissima parlato a braccio per mezz'ora complimenti allora i relatori sono stati già presentati e tra poco arriva anche la sedia per me che ormai gli anni avanzano e cominciamo con il dottor Barbieri per quanto riguarda appunto questa tematica che non è solo IORP però la direttiva IORP2 enfatizza la comunicazione e la trasparenza informativa verso gli aderenti anche potenziali è sicuramente un passo nella giusta direzione ma è sufficiente per riportare l'attenzione sulla previdenza complementare in particolare per aumentare conoscenza e consapevolezza delle tematiche previdenziali tra i giovani Buongiorno a tutti ringrazio per la domanda ma già il direttore generale della Covip l'ha accennato in modo molto importante e significativo l'informativa soprattutto per quanto riguarda la realtà italiana era già presente è stata appunto introdotta e via via sviluppata nell'arco degli ultimi anni però il punto che sottolineava il direttore è proprio questo modalità moderne di interlocuzione con l'aderente il potenziale aderente e fare in modo di stimolare l'interesse dei giovani e questo ovviamente è di estrema importanza i numeri della previdenza complementare il tasso appunto di adesione li sappiamo la Covip li infiatizza ogni anno abbiamo circa il 30% quindi più o meno uno su tre lavoratori che sottoscrivono un piano di previdenza complementare di questi molti troppi non versano tra gli aderenti individuali circa la metà non versano ma anche tra le collettive circa il 15-16% non contribuisce in modo continuativo quindi abbiamo questo problema importante sappiamo che ci sono diversità geografiche nell'adesione ma soprattutto i giovani se gli aderenti sono in media il 30% i giovani non raggiungono il 20% il problema quindi è un problema molto importante perché le novità normative che sono state introdotte sul primo pilastro non solo da questo governo ma anche dai precedenti non fanno altro che ridurre nel tempo il tasso di sostituzione tra il primo pilastro e appunto la pensione cioè la percentuale della pensione della prima pensione rispetto all'ultimo stipendio va via via a ridursi questo cosa vuol dire che la previdenza complementare non è più un'opzione è un obbligo è un obbligo e implica uno sforzo da parte di tutti gli operatori sollecitare il sistema è anche questo ci deve essere un impegno ovviamente lo chiediamo alla Covid ma lo chiediamo al governo ci deve essere un impegno degli operatori non soltanto i fondi pensione ma per quanto possiamo anche noi gestori per andare in questa direzione anche perché non è soltanto soddisfare un'esigenza di lungo termine dei giovani e rispondere in qualche modo a un imperativo etico e anche bene o male fare il nostro interesse di gestori adesso la previdenza complementare in Italia rappresenta circa il 10% del PIL largo circa 180 miliardi sono tanti sono pochi sicuramente abbiamo fatto tantissimi passi avanti la previdenza complementare è stata introdotta a metà degli anni 90 l'anno scorso tanti fondi pensione hanno festeggiato i primi 20 anni il problema è che se alziamo lo sguardo guardiamo quello che succede fuori dall'Italia i numeri sono impietosi la previdenza all'estero è molto più importante ha un peso enormemente più significativo e ha un impatto sull'economia del reale del paese ovviamente molto più importante sollecitare l'attenzione dei giovani incrementare il numero degli aderenti vuol dire aumentare le risorse a disposizione del sistema dei gestori è davvero un impatto più significativo nel sostenere nell'economia reale del paese e ovviamente nell'investimento domestico io direi che questi sono un po' i temi che ovviamente non è soltanto IORP perché come si diceva prima il nostro sistema sulla parte informativa era già sufficientemente evoluto però l'importanza l'evidenza è che questa informativa queste informazioni che diamo alla fine devono essere assolutamente efficaci l'efficacia si misura con il tasso di adesione e con la crescita delle risorse destinate appunto alla prestazione e questo ha un impatto ovviamente riassumo sull'economia reale del nostro paese che di soldi di investimenti ovviamente ne ha bisogno sì assolutamente anche perché i giovani vengono spinti ad aderire anche in base a queste nuove tematiche noi abbiamo visto la manifestazione a favore del riscaldamento cioè a favore contro il riscaldamento climatico e quindi poter spingere questo ce lo dirà un po' dottor anche Iaquinta capire un po' a livello internazionale come si muovono quali sono le dinamiche della previdenza complementari percezione di cittadini su questi prodotti immagino che all'estero insomma avere dei fondi che investono rispettando certi parametri insomma è anche una spinta per l'iscrizione assolutamente tra l'altro quello che noi abbiamo fatto anche io mi unisco i saluti ovviamente che abbiamo fatto lo scorso anno è cercare di partendo proprio dagli aderenti dai lavoratori in otto paesi a livello globale cercare di studiare un po' alcune delle dinamiche e appunto delle se vogliamo modalità di adesione perché lo fanno perché non viene fatto soprattutto cercando di avere un approccio multidimensionale come detto geografico tra gli otto paesi ovviamente abbiamo incluso l'Italia abbiamo incluso ovviamente quelli che vengono solitamente visti come i best performer quindi il mondo anglosassone Stati Uniti Australia ma anche alcuni paesi che in qualche modo sono in più o meno difficoltà come noi Germania l'Irlanda sta andando sotto una forza trasformazione anche il Regno Unito tutto sommato oltre a Brexit ha altri problemi appunto di natura proprio di previdenza integrativa l'altro approccio che abbiamo ottenuto nella nostra analisi è multidimensionale in tema generazionale cioè abbiamo diviso gli intervistati in quattro gruppi popolazione attiva popolazione inteso come lavoratori attivi vicini alla pensione quindi a 5 anni diciamo dalla pensione persone in pensione da poco quindi persone persone che sono andate in pensione da meno di 5 anni e persone invece in pensione da molto e all'interno diciamo dei diversi paesi abbiamo potuto assistere se vogliamo a delle evidenze che in qualche modo creano se vogliamo degli elementi peculiari dell'Italia rispetto ad altri paesi un elemento fondamentale che abbiamo visto è che purtroppo in Italia ancora un grosso numero di persone fa affidamento soltanto sul primo pilastro nel momento in cui andrà in pensione e questo ovviamente si è confrontato con altri paesi come ad esempio il mondo anglosassone australiano per esempio statunitense stona tantissimo il fatto cioè che negli altri paesi l'individuo abbacchia pito che deve diventare attore protagonista il proprio futuro e non più soltanto fare affidamento sulla pensione pubblica è ormai un dato di fatto questo nel nostro caso quindi sull'Italia però ci ha fatto vedere una dinamica in cui i lavoratori giovani se vogliamo hanno in qualche modo recepito il fatto che il futuro sarà meno rosio hanno capito cioè che rispetto ai papà ai nonni eccetera eccetera la situazione sarà meno favorevole ovviamente e qui mi allaccio a quello che diceva Antonio non è ancora loro pannaggio l'adesione a un fondo pensione integrativo ancora non è un qualcosa che vedono come fattivo è da farsi abbiamo cercato poi di analizzare in qualche modo una sorta di formula del pensionamento felice cioè abbiamo cercato di confrontare tra i diversi paesi quello che effettivamente era lo stato d'animo dei lavoratori solitamente sapete ci sono vari ricerche di diverse società che sono anche consulenti o altro che fanno vedere lo stato di salute dei sistemi previdenziali nel mondo e si basano principalmente su dati quantitativi uno lo citava ad esempio Antonio qual è la dimensione delle risorse nella previdenza integrativa rispetto al PIL sapete che alcuni paesi come ad esempio l'Olanda sono sempre tra i primi posti noi in Italia siamo come diceva anche Antonio non sicuramente nella parte alta della classifica abbiamo però sulla base di questo sondaggio cercato di capire effettivamente qual era la percezione dei singoli e abbiamo creato questa formula del pensionamento felice che secondo noi si basa su tre elementi fiducia responsabilità e consapevolezza se vogliamo fiducia nel sistema la fiducia nel sistema purtroppo in Italia non faccio lo spoiler ovviamente l'Italia all'interno della formula del pensionamento felice non esce tra i primi posti però attenzione neanche l'Olanda esce tra i primi posti mentre escono molto bene Stati Uniti Australia e Svezia Stati Uniti Stati Uniti sì con una peculiarità ovviamente gli intervistati sono persone che hanno diciamo un fondo pensione integrativo che di fatto viene offerto in maniera però automatica a chi lavora e qui c'è un tema se vogliamo della decisione automatica su cui Covid comunque spende molto in tal senso come dicevo fiducia nel sistema quello che manca in Italia la fiducia nel sistema cioè il fatto che effettivamente si abbia la percezione che i soldi che metto da parte anche come primo pilastro effettivamente verranno messi a buon frutto questo perché e lo abbiamo visto anche nelle analisi le regole cambiano troppo spesso in Italia anche quando si parla di fondi pensioni integrativi purtroppo ci sono stati diversi cambiamenti anche da un punto di vista fiscale o meno che le persone in qualche modo non riuscendo ad informarsi e questo è un altro elemento appieno colgono sempre negativo però non molte persone quando sollecitate sanno ad esempio tutti gli impatti invece positivi fiscali che in Italia ci sono nell'adesione integrativa quindi parlo ovviamente della soglia della deducibilità parlo della tassazione della prestazione una volta che si andrà in pensione e quindi quanto più si è iscritti meglio diventa l'altro tema della formula la felicità la responsabilità il senso di responsabilità gli italiani come detto ancora purtroppo rispetto ad altri paesi fanno affidamento sul primo pilastro e poi una sorta di consapevolezza e di preparazione e qui purtroppo cadiamo veramente male cioè manca proprio e questo è un tema che va al di là ovviamente della sola diciamo previdenza e quindi dell'investimento previdenziale manca cultura finanziaria questo è un dato di fatto voi lato giornale lo sapete ci sono diversi ovviamente progetti per cercare di migliorare questo aspetto però è un dato di fatto se le persone non sono informate non sono raggiunte non sanno di cosa si parla ovviamente hanno la tendenza e questa è natura umana a schermarsi un pochino a non informarsi e questo invece è proprio dove deve essere fatto il grande cambio di passo e qui ovviamente gli attori come diceva Antonio devono presenti qui in sala e non solo sul palco devono fare qualcosa il grande assente ovviamente è il governo grazie e questo mi dà la possibilità di fare la domanda a Laura Tardino per quanto riguarda appunto l'esperienza internazionale di Aberdeen standard investment per quanto riguarda appunto altri paesi che condividono con l'Italia problemi analoghi come invecchiamento come conti pubblici all'estero insomma soprattutto quelli però di origine anglosassene stanno mettendo un po' a posto i conti e le condizioni sono diverse insomma siamo davvero così indietro anche a suo giudizio Sì buongiorno a tutti grazie per la domanda domanda estremamente complessa perché è veramente difficile in realtà paragonare i sistemi pensionistici insomma di diversi paesi perché ciascuno si porta dietro un retaggio diverso in termini di diversi fattori quella che è l'ingerenza per esempio statale quindi del primo pilastro quali sono e quando sono state fatte le riforme quindi la transizione per esempio dal sistema cosiddetto a prestazione definita a quello a contribuzione definita noi di Aberlin Standard devo dire la verità ci abbiamo provato siamo molto orgogliosi di questo perché per noi i clienti istituzionali sono sicuramente grande parte degli attivi che abbiamo in gestione per cui dobbiamo assolutamente monitorare quello che accade in questo mondo qualche anno fa abbiamo quindi sponsorizzato la pubblicazione anche la scrittura dire il vero di un libro che mette proprio a confronto in due volumi l'ultimo è stato completato l'anno scorso 14 diversi paesi ovviamente l'obiettivo non è certamente quello di dire chi è il migliore e chi è il peggiore ma cercare in qualche modo di trarre dalle diverse esperienze quelle che possono essere le indicazioni per risolvere eventualmente i problemi che ciascuno appunto di questi sistemi pensionistici può avere certo è come veniva ricordato tutti i paesi sono più o meno nella stessa situazione per quello che riguarda l'invecchiamento della popolazione e ahimè l'inasprimento dei conti pubblici l'invecchiamento della popolazione è un dato di fatto per tutti i paesi anche quelli di cui fino a qualche anno fa diciamo non ci si aspettava insomma che avrebbero avuto in tal senso un'evoluzione negativa come per esempio l'Italia il Giappone insomma paesi che tradizionalmente si sa hanno appunto un forte chiamiamolo così invecchiamento appunto della popolazione anche paesi emergenti pensate anche i paesi tipo Hong Kong Singapore nei prossimi anni vedranno aumentare l'aspettativa di vita delle loro popolazioni di 10 15 anni quindi insomma anche queste popolazioni invecchiano e invecchieranno diciamo sempre più velocemente ciò detto c'è in tutti i paesi e questo lo viviamo anche all'interno del nostro la necessità di sostituire sempre di più quello che è stato il primo pilastro pubblico con forme di previdenza complementare e qui veniamo forse a quelle che sono le indicazioni più interessanti che emergono dai due volumi appunto scritti da Greg McLemont direi che l'Italia pur avendo un sistema previdenziale nel suo complesso assolutissimamente d'avanguardia e direi solido per i motivi che chiaramente riguardano soprattutto la copertura dei cittadini degli aderenti in primis e soprattutto anche per un tasso di sostituzione che quando andiamo a vedere cosa avviene appunto negli altri paesi è decisamente alto quindi almeno per il momento inoltre è stato uno dei primi paesi che si è mosso nella direzione proprio della contribuzione un sistema quindi assolutamente moderno dove si stanno spingendo ormai tutti i paesi proprio per i problemi che hanno anche a livello di invecchiamento di popolazione di sostenibilità dei conti pubblici però e qui arriviamo diciamo alla nota Dolenz quindi dove l'Italia a giudizio direi di molti in realtà mi sembra di aver sentito anche nei precedenti interventi sotto questo punto di vista insomma ci sia sicuramente spazio per fare dove l'Italia è rimasta più indietro rispetto a esperienze internazionali che pure sono arrivate alle riforme di cui parlavo prima magari anche in momenti diciamo più tardi rispetto all'Italia stessa l'Italia rimane indietro sul fatto che la previdenza complementare ahimè proprio perché in realtà quella pubblica occupa un grande spazio ancora rimane poco sviluppata si ricordava prima appunto a livello di percentuale di pile la previdenza complementare internazionale arriva a superare la soglia del 100% anche il caso inglese che comunque tra quelli diciamo nordici probabilmente è quello meno sviluppato ha comunque una previdenza complementare di oltre di oltre il 100% del pil in Italia a malapena arriviamo al 10% paesi nordici come la Danimarca l'Olanda ma anche la stessa Svezia superano addirittura il 200% questo per darvi più o meno l'ordine di graziezza quindi in Italia non si è ancora appena sviluppata la previdenza complementare e questo è un primo problema il secondo problema che emerge diciamo dall'analisi comparativa fatta da Greg è che sicuramente abbiamo dei fondi nell'ambito della previdenza complementare dimensionalmente piccoli a differenza che appunto nei paesi molti paesi anglosassoni è chiaro che le due cose cioè il primo problema e il secondo probabilmente sono strettamente connessi tra di loro ora da quali considerazioni si possono fare per far sì che in qualche modo dall'esperienza internazionale si possa trarre una se vogliamo lezione per far sì che questi fondi questa previdenza complementare possa crescere e perché no quindi possa crescere anche la dimensionalità quindi dei fondi pensioni complementari stessi direi che sono 4 o 5 i punti che nell'ambito di questa analisi comparativa vengono toccati e che in qualche modo sottolineano come esperienze positive virtuose dello sviluppo della previdenza complementare siano appunto strettamente legate ad alcuni meccanismi il caso inglese per esempio è fortemente insieme ad altri casi legato per esempio alla cosiddetto auto enrollment obbligatorio cioè qualunque aderente versa diciamo un contributo obbligatorio alla previdenza complementare non soltanto il datore di lavoro ma anche l'aderente stesso è obbligato diciamo ad aderire a un fondo di pensione un fondo appunto pensione complementare e in assenza di una scelta esiste tra l'altro un fondo complementare particolare diciamo in cui chi non dice nulla sostanzialmente viene fatto confluire per far sì che sostanzialmente questa scelta non venga in realtà realizzata deve il soggetto dire no è cosa diversa rispetto diciamo al sistema italiano dove invece viene deve essere effettuata una scelta attiva questo ha sicuramente permesso in UK questo è abbastanza evidente perché dall'introduzione appunto di questa riforma la previdenza complementare è cresciuta veramente tanto un altro tema toccato all'interno di questi due volumi è sicuramente quello relativo diciamo alla semplificazione contributiva e in generale alla trasparenza dei costi che gravano diciamo sui fondi pensione questo è un tema molto importante le esperienze internazionali dimostrano che dove i paesi si sono impegnati nel semplificare appunto quello che può essere intanto il modo in cui vengono appunto versati i contributi e quella che è la vita poi appunto dell'aderente in termini appunto di prestazione pensionistica laddove questo accade ci sono più probabilità che l'aderente venga appunto in qualche modo catturato la trasparenza è sicuramente un tema anche perché chiaramente i costi della sottoscrizione di un fondo pensione sono un tema molto sentito è chiaro che in un contesto in cui il mercato del lavoro è comunque un mercato del lavoro caratterizzato tra l'altro da un tasso di disoccupazione quello italiano particolarmente alto tra i giovani e un altro tema tra le donne questo sicuramente diciamo che per quello che riguarda l'attenzione ai costi pone una nota in più e quindi semmai se vogliamo un punto a sfavore nel caso un aderente dovesse appunto decidere se aderire o meno ad un fondo di previdenza complementare ho parlato di donne sicuramente mi fa piacere farlo anche perché in questo momento sono l'unica donna sul palco il salone quest'anno tratta a 360 gradi la tematica ISG quella della inclusione le esperienze di successo a livello di paesi internazionali parlo di Olanda Danimarca Svezia testimoniano che chiaramente un forte sviluppo del mercato del lavoro al femminile quindi con un'adesione elevata in questi paesi parliamo dell'80% di donne che comunque partecipano al mercato del lavoro è fondamentale come motore come propulsore chiaramente anche per la previdenza complementare in Italia ahimè siamo a un risicato 50% quindi sicuramente ci sono degli aspetti che si possono toccare da ultimo quello che ahimè ricordava prima la dottoressa Anselmi non viene toccato ancora una volta da Covip e nemmeno dalla IORP è l'aspetto fiscale sicuramente l'esperienza internazionale suggerisce che un'esenzione fiscale più diciamo forte sostiene lo sviluppo chiaramente dei fondi pensioni complementari grazie grazie Laura anche se sul fisco insomma insomma qualche qualche vantaggio c'è a meno per quanto uno va in invenzione insomma c'è una miglior fino adesso perché le cose possono cambiare visto che sono già cambiate tre anni fa per quanto riguarda i fondi pensioni negoziali a questo punto farei una domanda dottor Andrea Mariani del fondo Pegaso per quanto riguarda soprattutto gli investimenti alternativi che continuano a rappresentare un'opportunità anche se il mondo dei fondi pensioni negoziali ancora non l'ha sfruttata del tutto Pegaso insieme ad altri fondi sta valutando dei progetti per ampliare queste prospettive di investimento anche su investimenti liquidi giusto? giusto buongiorno a tutti ringrazio a Soggestioni di averci dato questa bella opportunità di partecipare a un evento così ampio e partecipato la prima domanda appunto riguarda la parte degli investimenti alternativi dei tre aspetti citati nel titolo del seminario e sicuramente portiamo una novità che in qualche modo è già stata comunicata nelle due settimane passate perché da circa un anno abbiamo lanciato con altri quattro fondi pensione oltre a Pegaso Fondo Energia Premi Moda Gomma Plastica e Foncer un progetto condiviso che ha culminato il 22 marzo con la pubblicazione del bando per la ricerca di un gestore di un mandato in Fiat per avatequiti questo lungo percorso in cui siamo stati assistiti da Prometeia è stato un percorso innovativo nel nostro ambito dove abbiamo condiviso nell'ambito della gestione finanziaria una serie di passaggi che normalmente i fondi fanno da soli quindi tutta l'analisi dell'assetto allocation l'individuazione della modalità gestoria le deliberazioni preliminari e quant'altro il progetto che è stato abbiamo definito come progetto Iride riteniamo che sarà un primo passaggio di una serie di passaggi finalizzati a strutturare una componente di investimenti in liquidi nell'assetto allocation di ognuno dei nostri fondi perché riteniamo che gli investimenti in liquidi siano un miglioramento dell'assetto allocation necessaria coerente e logica con la nostra missione istituzionale noi avevamo iniziato nel 2013 a fare questo tipo di percorso avevamo cercato sin dal 2013 la convergenza con altri soggetti consapevoli che per la natura dei costi di questa attività e delle conoscenze necessarie un percorso condiviso era sicuramente un'opzione migliore rispetto a un percorso da soli l'anno scorso siamo riusciti poi finalmente a trovare questa sintonia che ci ha portato adesso a lanciare questo bando che riteniamo auspicabilmente prima della pausa estiva potremo arrivare a individuare il candidato con cui poi nel corso dell'autunno stipulare le convenzioni di gestione grazie grazie e sempre di investimenti alternativi farei insomma domanda anche a Sergio Carfizzi del fondo pensione nazionale BCC anche i fondi presistenti sono interessati agli investimenti alternativi insomma come si sta muovendo il vostro fondo su questo tema un saluto a tutti è lusingato di essere seduto vicino all'unica donna del palco si fa valere però si voleva detto questo fondo pensione nazionale BCC anno di nascita 1987 dal 2007 abbiamo cominciato i primi investimenti in quello che noi chiamiamo il segmento del decorrelato quindi abbiamo cominciato quell'anno e oggi a distanza di 12 anni abbiamo su un totale di 2 miliardi e 3 di patrimonio complessivo circa 324 milioni di richiamato investito nel decorrelato siamo arrivati a circa 30-35 controparti nelle quali abbiamo investito sia Italia che estero e il 93% di questi 324 milioni sono stati investiti nell'economia reale circa il 50% in Italia e 50% all'estero ampia diversificazione in ogni tipologia di asset class dal private equity Italia estero dal private debt Italia estero infrastrutture immobiliare addirittura cat bonds direct lending cioè abbiamo applicato la regola della diversificazione che solitamente accompagna gli investimenti tradizionali quelli cioè del mercato finanziario anche al decorrelato ricordo naturalmente che i fondi pensione ovviamente in questo specifico segmento devono rispettare delle regole ben precise che si rifanno anche al contenimento degli investimenti stessi all'interno di percentuali che rivengono proprio dalla normativa l'ultima in ordine di tempo dal DM 166 del 2014 quindi noi come fondo pensione presistente bancario e sottolineo tra i principali fondi pensione presistenti bancari in Italia abbiamo da tempo attivato questa attività in termini di investimento e come diceva giustamente la dottoressa Anselmi anche e soprattutto negli ultimi tempi per compensare smussare o quantomeno riequilibrare i risultati non certamente salsanti che rivengono dal mercato finanziario e il 2018 ne è un esempio naturalmente gestire un'attività in questo segmento impone delle regole anche all'interno della struttura quindi io ho creato all'interno della mia realtà una struttura che è proprio dedicata agli investimenti decorrelati in termini soprattutto di analisi analisi sia nella fase ante e sia soprattutto nella fase del durante la fase del durante per me è più importante della fase ante perché nel durante io devo avere non solo la conferma di aver fatto un buon lavoro in termini di scelta ma anche soprattutto per monitorare con attenzione l'evoluzione del rapporto per evitare come in ogni sana e prudente gestione che un rapporto che nasce sotto i migliori auspici il cosiddetto rapporto fisiologico possa col tempo trasformarsi speriamo mai in un rapporto patologico ed è per questo che anche l'attività di risk management che noi abbiamo già introdotto tanti anni fa all'interno del segmento dell'area del finanziario l'abbiamo esteso anche al decorrelato e lo stiamo sempre più affinando quindi veramente con orgoglio posso dire che all'interno della nostra struttura ci sono dei presidi molto forti che vanno anche nella direzione soprattutto di un attento monitoraggio di questo lavoro un lavoro importante grazie grazie dottor Caffizzi a questo punto anche l'altro ente che non è un fondo menzione ma un primo pilastro che è quello dell'Empac la cassa di previdenza dei consulenti del lavoro dottor Golinelli qual è l'esperienza di Empac sul tema degli investimenti alternativi grazie anche da parte mia della domanda devo dire che sono stato correttamente indicato come primo pilastro ma nelle riflessioni che fanno le casse previdenziali ci sono anche considerazioni collegate al tema del secondo pilastro tant'è che molti di noi tra cui tenendo distinti i due regimi da parte per esempio di IMG le casse fanno entrambe le attività e mi è interessato molto il dibattito fatto sul tema ovviamente si ricollega con la domanda non sto andando fuori tema impattano molto sul tema degli investimenti di tipo alternativo perché parimenti tutto il mondo delle casse ha avviato già da un po' di tempo la tematica degli investimenti alternativi collegandolo fortemente al tema di supportare la crescita dell'economia in una fase che dal 2008 in poi ovviamente tutti conosciamo insomma la tematica di crisi e che mi fa individuare in questo parametro anche uno dei temi che sta determinando le difficoltà della crescita del secondo pilastro in Italia in quanto il tema del risparmio soprattutto della classe dei giovani è molto difficile da andare a catturare e da andare ad incentivare quindi mi rendo anche conto come giustamente è stato detto che gli interventi governativi in questo senso dovrebbero essere forti siamo in attesa di vederli noi abbiamo utilizzato già nel passato analoghi temi in supporto alla crescita dell'economia per quello che riguarda genericamente lo stimolo a fare questo tipo di investimenti la tematica dell'investimento alternativo in vero è molto ampia abbraccia la classe del private equity del private debt ed anche aggiungo quella del tema infrastrutturale che è anche un tema real estate anzi è soprattutto un tema real estate quindi in orizzontale abbraccia a 360 gradi un po' tutte le tematiche che toccano il nostro patrimonio nell'ambito dell'ADEP che è l'associazione appunto degli enti di primo pilastro questo tema ha portato a fare sistema come abbiamo visto anche da parte di Mariani i fondi pensione che stanno iniziando ad approcciare il tema lo stanno facendo facendo sistema con la logica che ci ha raccontato noi abbiamo fatto sistema preventivo ed è un po' quello che stiamo cercando di fare anche sul tema di York 2 in che modo abbiamo fatto sistema preventivo ognuno secondo il nostro principio di proporzionalità ha inserito modalità di selezione degli investimenti di tipo alternativo collegati a come siamo strutturati e alle nostre caratteristiche noi che siamo una cassa previdenziale medio piccola l'abbiamo strutturato attraverso un'organizzazione che si basava su un'attenta due diligence perché come è stato detto il tema degli investimenti di tipo private è un tema fortemente rischioso che va quindi ad impattare su un'esigenza di attenta analisi dei sottostanti delle modalità gestionali e di attenta analisi dei sottostanti delle tipologie di prestito che l'investimento private va a stimolare cosciente del fatto che il passaggio direi epocale perché l'investimento sugli alternativi rappresenta come un po' tutti stiamo testimoniando anche il passaggio da quello che era un'intermediazione prettamente bancaria a una sorta di disintermediazione che passa attraverso noi come istituzionali questo ci ha responsabilizzato e abbiamo quindi agito cercando di creare questa attività di due diligence con estrema attenzione alcune realtà più grosse hanno creato team interni come è stato raccontato anche come si stanno organizzando i fondi pensione nelle casse previdenziali alcuni hanno fatto team interni noi abbiamo esternalizzato essendo una realtà come dicevo prima medio piccola l'esternalizzazione però è passata attraverso il coinvolgimento delle realtà di tipo istituzionali perché l'attenzione con cui stiamo operando questo tipo di selezione ci ha portato a considerare anche con estrema attenzione rischiosità a loro volta collegate con possibili conflitti avendo eventualmente per esempio consulenze che si vanno ad intrecciare con la stessa gestione poi che si vanno ad attivare ecco perché abbiamo creato con i nostri advisor che abbiamo mosso a 360 gradi perché abbiamo mosso un intermediario che si occupa un consulente che si occupa prettamente della parte di analisi finanziaria sia come supporto sia nella costruzione dei modelli di analisi di tipo strategico che ci hanno portato a fare le attente categorizzazioni di tipo tattico e da un altro lato un advisor specifico che si occupa della funzione dei risk management in vero mi sembra di tornare indietro io nel passato facendo attività di risk management ho vissuto la fase di York 2 nell'ambito delle banche e delle sim quando è nata il recepimento delle direttive comunitarie sull'ambito Basilea 2 anche in quel caso l'attenzione forte è stata sulla governance e sulla trasparenza noi ci stiamo rendendo conto fin da prima ancora che impatti su noi casse previdenziali che in tal modo anche noi ci dobbiamo organizzare quindi la funzione di risk management che abbiamo messo in pista noi e le attività di attenzione con cui il sistema dei controlli è entrato nel mondo delle casse lo va a testimoniare questo ha come dicevo impatto sui meccanismi di selezione degli alternativi alla fine la conseguenza è l'individuazione di una diversificazione che può consentire di fare per bene l'attività di attenta analisi di rischiosità che è stata individuata anche dai colleghi dei fondi pensioni nella descrizione precedente quindi non mi soffermerò sulle poi sottocategorizzazioni perché come dicevo prima sono collegate con le caratteristiche specifiche nostre diciamo che l'obiettivo che ci siamo dati è di mantenerci entro un ambito complessivo di non liquido pari a massimo un terzo di tutto il patrimonio in questo senso abbiamo iniziato a trasformare il patrimonio immobiliare che è uno dei temi che le casse previdenziali si portano dal passato in investimenti appunto più di tipo infrastrutturale che di tipo immobiliare in senso stretto accostandole a temi di investimento infrastrutturale diretto attraverso private equity in temi puri di private equity di private debt finisco con un tema legato alla europeizzazione nel senso che io fin dall'inizio ho dato mandato di fare selezione focus italia come è nelle nostre corde come giustamente è stato detto essendo primo pilastro noi siamo fortemente sistemici e quindi di base il focus italia per noi è indispensabile come dicevo prima questo è anche aiutare il supporto alla crescita economica però abbiamo innescato questo in un ambito che è la logica europea che è stata raccontata da parte delle controparti sul lato da loro parte della barricata diciamo così dal lato nostro come investitori significa prendere spunto per fare al meglio l'attività che dicevo prima di due dirigenti quindi ecco questo era per concludere e per dare un quadro complessivo di come ci muoviamo in questo ambito allora vi chiedo di essere un po' più stringati nel secondo giro perché è stato interessante il primo però siamo andati un po' fuori orario allora dottor Barbieri investimenti in economia reale PMI quotate come si stanno muovendo gli investitori istituzionali il mercato si sta sviluppando le aziende quotate allo Stare all'AIM stanno aumentando di numero ma cosa manca ancora? Sì Arcafondi è forse stata la prima società di gestione a lanciare ormai quattro anni fa un fondo che investe direttamente nello Stara e nell'AIM quindi proprio nelle small cap italiane small cap che è un asset class che conosciamo che ovunque nel mondo e non soltanto in Italia ha un profilo non soltanto di rischio di rendimento estremamente interessante in particolare per il mercato italiano sia l'AIM che lo Stare rappresentano quello che manca al mercato principale il mercato principale che rappresenta comunque poco in termini di PIL circa il 40% è rappresentato soprattutto da titoli finanziari banche assicurazioni utilities gli altri mercati hanno invece una rappresentazione più importante della parte industriale che è sicuramente quella più interessante Arcofondi nell'aprile del 2015 lancia questo fondo e quindi ben prima sia del lancio dei PIR che dell'introduzione delle agevolazioni fiscali per gli investitori istituzionali quindi un punto di vista veramente per qualche verso privilegiato cos'è che abbiamo visto all'inizio un interesse in particolare di qualche investitore istituzionale fondazioni e banche e poi via via nell'arco del tempo soprattutto casse quindi ancora primo pilastro e soltanto in misura minore il secondo è evidente che dall'introduzione della normativa sui PIR la parte di retail ha avuto un ruolo veramente essenziale quello che possiamo dire è che si sono fatti tanti passi avanti soprattutto dopo i cambiamenti le facilitazioni per la quotazione delle imprese in termini fiscali si è visto un aumento significativo di quotazioni in particolare sul mercato EIM che rimane ancora piccolino però è importante ricordare il numero di IPO che si è registrato negli ultimi anni 25 nel 24 nel 2017 25 nel 2018 quest'anno 3 il problema se volete è duplice uno il mercato finanziario italiano è ancora poco sviluppato è vero si stanno facendo passi avanti ma manca se volete la materia prima le aziende piccole e medie imprese che vogliono quotarsi e vengono attirate sul mercato appunto azionario sono ancora poche ieri abbiamo fatto una presentazione in quest'aula proprio sulle PMI sono venute abbiamo presentato 4 matricole 4 IPO aziende medio piccole con fatturati compresi fra i 100 milioni e i 250 estremamente interessanti amministratori delegati CFO veramente capaci con uno sguardo all'estero dobbiamo essere capaci come sistema di portare più aziende sul mercato con queste caratteristiche dall'altra parte però l'investitore istituzionale deve dare deve aumentare un po' quello che si dice l'on bias l'on bias non è una brutta parola però quando facciamo anche qui un confronto a livello internazionale secondo pilastro solo il 4% degli investimenti azionari è in Italia all'estero anche in mercati piccoli e almeno il 20% evidente che c'è un problema di dimensione attenzione perché appunto le piccole e medie imprese sono molte volte poco coperte poco conosciute bisogna in qualche modo fidarsi come dire di noi gestori però questo se vogliamo veramente avere un impatto è un passo che dobbiamo fare da una parte più aziende buone quotate poi altri veicoli venture capital va benissimo private equity va benissimo però dall'altra parte un maggior impegno una maggiore attenzione da parte degli investitori istituzionali grazie Antonio devo dire il tema delle PMI è veramente attualissimo in questo momento poi sapete c'è tutta la discussione anche aperta per quanto riguarda i piani individuali di risparmio e il fatto che siano stati introdotti delle modifiche per incentivare l'investimento in PMI ma le PMI non ci sono quindi sicuramente questo è un punto molto importante che il governo possa intervenire per incentivare lo sviluppo delle PMI però volevo chiedere all'altro Antonio adesso con il ricepimento della IORP2 quindi ci sarà un'accelerazione verso l'implementazione dei criteri di ESG ne abbiamo parlato che cosa ci potete dire voi di State Street Global Advisor sul punto anche in relazione proprio all'esperienza internazionale che avete sì grazie partirei sicuramente dall'esperienza internazionale però per ritornare a un elemento fondante spesso e volentieri gli italiani sono sempre un popolo di esterofili cioè guardiamo sempre all'estero per vedere che cosa fanno gli altri per poi imparare vi do l'esperienza di quello che abbiamo fatto noi si parla tanto di integrazione dei criteri ESG nelle strategie di gestione parliamo principalmente azionarie qualche anno fa ormai all'interno del mondo di State Street Global Advisor usavamo un cliente in italiano una cassa di previdenza italiana che di fatto aveva un portafoglio invece che utilizzava un approccio diciamo di prima generazione cioè un approccio tramite blacklist quindi faceva uno screening ed escludeva dall'universo investibile quello che di fatto potevano essere i nomi tra virgolette cattivi diciamo dialogando con questo cliente dialogando con il suo consulente abbiamo cercato di capire se si potesse utilizzare un approccio un po' più innovativo se vogliamo e lì vi parlo ormai di 4 o 5 anni fa quindi rispetto al tema che ormai è diventato assolutamente popolare mainstream ora l'integrazione era ancora un qualcosa di tra virgolette allo studio proprio perché era ancora la ricerca che era agli albori di fatto quando abbiamo visto all'interno della nostra realtà per chi non lo sapesse State Street Global Advisors è il terzo gestore al mondo con oltre 2 trillion di euro in gestione abbiamo trovato un track record che di fatto portava un esempio concreto di questo che era stato fatto per un cliente un fondo pensione australiano quindi di fatto un investitore italiano è stato il primo in Europa ad avere una gestione implementata tramite integrazione dei criteri nella selezione dei titoli di fatto poi come potete immaginare grazie a questa esperienza abbiamo continuato e approfondito la nostra ricerca e adesso all'interno delle nostre strategie azionarie quantitative attive l'integrazione dei criteri SG è parte diciamo core della selezione del processo di selezione di titoli quindi utilizziamo fattori finanziari e fattori extra finanziari tra l'altro questo ci ha permesso anche di rispondere con successo proprio ad alcune esperienze italiane di bandi di gara che sono stati fatti ultimamente citati anche se vogliamo dalla dottoressa in cui di fatto prima anche del ricepimento di Orp2 comunque tanti fondi pensione e casse hanno capito che comunque l'investimento SG può dare del valore aggiunto soprattutto per un allineamento se vogliamo che in qualche modo perfetto in lungo termine ragionevolmente elementi SG possono dare valore nel lungo termine chi meglio di un investitore previdenziale dovrebbe avere effettivamente un'ottica di lungo termine tralasciamo ovviamente quello che di solito avviene cioè confronti trimestrali annuali che non aiutano un anno come il 2018 è stato sicuramente un anno negativo ma è stato un anno in cui se si ha una contribuzione sistematica continuativa non rappresenta che un piccolo incidente di percorso ovvio che in maniera intelligente se si è vicini alla pensione stare su un comparto puramente finanziario nel 2018 ovviamente non è positivo ma è lì che bisogna utilizzare il fondo pensione al meglio quindi ad esempio spostarsi su comparti assicurativi garantiti quando effettivamente si è più vicino alla pensione per non andare ad intaccare quello che si è costruito un altro elemento che secondo noi è citato anche prima dal former moderator diciamo rappresentato da quello che abbiamo visto Friday for Future le nostre città e non solo sono state invase qualche settimana fa da studenti, ragazzi, giovani e non solo che cercavano in qualche modo di mettere nell'agenda politica e non solo il tema del cambiamento climatico è un dato di fatto qui invece guardiamo a quello che hanno fatto all'estero noi abbiamo investitori soprattutto olandesi che hanno cominciato a recepire nelle proprie strategie azionari strategie che guardano al cambiamento climatico attraverso esclusione ma anche attraverso mitigazione mitigazione e adattamento cioè vuol dire escludere tra virgolette quelle che sono le aziende o comunque i settori a più ampia emissione di carbone o comunque di impatto andare a mitigare quelle che sono di fatto i produttori anche di revenues brown se vogliamo ma con l'adattamento andare effettivamente a investire capitale su quelle aziende che di fatto hanno già recepito strategie proprio di modelli di business di adattamento per far fronte a quello che è il cambiamento climatico e al netto di qualcuno che apprezza tanto Twitter il cambiamento climatico è un dato di fatto è un dato di fatto e ha un impatto economico devastante basti pensare a quello che sono gli impatti ad esempio nel mondo dell'agricoltura e di conseguenza anche nel mondo della GDP globale Grazie Antonio Laura allora a questo punto che cosa pensa Aberdeen Standard Investments come è pronta ad accogliere i nuovi criteri ESG cosa pensate di fare? Dunque devo dire la verità che come società siamo pronti ormai da anni nel senso che Aberdeen Standard Investments è stata probabilmente tra le prime società di gestione a firmare i famosi famigerati principi dell'investimento responsabile già nel lontano 2007 e da ormai qualche anno siamo anche retati dai principi degli investimenti responsabili con un rating A più che magari ai molti non dice nulla ma significa in realtà fare veramente tanto nello spazio ESG avere questo rating vuol dire che si fanno tutta una serie di attività abbiamo per darvi un'idea un team centrale di 20 persone che si occupa solo ed esclusivamente di ESG le attività sono tante tra queste sicuramente anche quella di monitorare tutte queste attività per cui ogni trimestre pubblichiamo un report all'interno del quale sono portati appunto i dati relativi al trimestre cioè tutto quello che è stato fatto per darvi un'idea nell'ultimo trimestre del 2018 abbiamo partecipato ad oltre 630 assemblee abbiamo votato oltre 5.000 risoluzione e direi che in 100 casi si trattava proprio di tematiche ISG che raggruppiamo in 8 caselle diverse che a loro volta insomma raggruppano i 17 obiettivi che le Nazioni Unite recentemente hanno dichiarato essere insomma quelli che sono gli obiettivi da rincorrere per essere compliant appunto con ISG accanto a questo team di 20 persone che risponde direttamente al direttore investimenti nostro a Paris globale quindi questo è molto importante perché qualunque investimento in qualunque asset class fosse azionaria obbligazionaria immobiliare private equity quindi liquida o illiquida qualunque asset class deve passare il bollino anche deve avere un bollino anche ISG che non vuol dire essere ai abbiamo fatto un passo in avanti lo diceva prima Antonio questo ci fa molto felici perché noi da anni che suggeriamo questo approccio chiamiamolo olistico cioè dove l'approccio ISG permea praticamente tutta l'analisi dei rischi appunto che riguardano qualunque investimento accanto a queste 20 persone dicevo infatti ce ne sono 50 sparsi un po' in tutto il mondo che siedono vicino ai vari gestori e che chiaramente recepiscono quelli che sono quelli che sono gli elementi di studio dei appunto degli addetti degli specialist sugli ISG e poi attraverso appunto il portfolio manager arrivano alla decisione finale ora abbiamo per noi che cosa vuol dire poi fare concretamente ISG dicevo prima analisi integrata dei rischi anche ISG nella tradizionale analisi dei rischi per qualunque asset class ma significa soprattutto noi siamo una casa di gestione con un approccio fortemente bottom up una gestione attiva e questo significa quindi che qualunque emittente qualunque società in cui investiamo ci teniamo tantissimo a fare engagement noi la chiamiamo anche stewardship vuol dire sedere nei board delle società entrare a far parte della strategia della società correggerne dove fosse necessario soprattutto a riguardo delle tematiche ISG potrei farvi tanti esempi nel rapporto di cui io parlavo prima in genere vengono appunto raccolti quelli che sono gli esempi di engagement relativi al trimestre recentemente abbiamo sicuramente cercato di spingere sempre più una società che tutti sono sicura conoscete in cui noi investiamo Starbucks ha aperto recentemente anche il suo punto vendita qua a Milano Starbucks sapete tutti insomma questa mania di bere il caffè soprattutto per strada in America produce tantissima plastica la plastica è un altro tema lo vediamo costantemente non c'è un giorno che sulla stampa non venga pubblicata la foto di qualche pesce morto sulla spiaggia con quintalate di plastica appunto in pancia bene l'obiettivo nostro sedendoci appunto accanto ai manager di Starbucks è quello di portarli via via ad una drastica diminuzione di quello che è appunto l'impatto ambientale della loro utilizzo appunto delle cosiddette caps non è plastica quella lì è carta quella lì hanno diciamo switchato parte di questo utilizzo in green cap che sono oltretutto fatte in parte anche insomma di carta e soprattutto se ne consiglia il riutilizzo questo è in realtà il nostro intervento ha riguardato soprattutto diciamo la determinazione di un obiettivo di riduzione alla fine l'azienda comunque deve porsi chiaramente degli obiettivi a nostro giudizio l'obiettivo che Starbucks si era data l'anno passato e che ha disatteso era probabilmente troppo elevato abbiamo consigliato alla società di abbassarlo ma di raggiungerlo chiaramente per quello che ci riguarda fare engagement viene più naturale chiaramente negli investimenti a lungo termine che per loro naturale direi di vita probabilmente insomma sono più facili da in qualche modo fare nello spazio degli liquidi deve essere una caratteristica di un fondo SRI per chiamarsi tale no in realtà nell'SRI diciamo c'è più una valenza veramente fortemente etica per cui si ragionava soprattutto si continua a ragionare anche noi abbiamo dei fondi SRI forse quello che traccia il più lungo nostro track record è proprio un SRI 27 anni fa abbiamo iniziato a fare European Corporate SRI però ragiona soprattutto in un'ottica di esclusione che è diversa rispetto ad avere diciamo l'approccio di cui io parlavo prima di cui parlava Antonio che oggi è appunto il mainstream fino a qualche anno fa non lo era ed è giusto che sia io l'anno scorso ero qui a parlare di questo approccio e è fondamentale perché è solo con questo approccio che si riesce veramente a cambiare la società perché escludere banalmente dei settori a favore di altri non sempre porta ai risultati sperati faccio un esempio che leggendo in questi giorni secondo me è molto eloquente si parla spesso delle energie cosiddette rinnovabili importantissime abbiamo visto anche ieri la presentazione durante la conferenza inaugurale di quello che sarà l'evoluzione con le macchine elettriche quindi di che cosa porterà questo però bisogna riflettere sul fatto che le macchine elettriche vanno con batterie batterie che utilizzano tanto cobalto litio il cobalto per esempio è sicuramente meglio diciamo del petrolio ma ahimè viene estratto pochi forse lo sanno io personalmente non lo sapevo fino a qualche giorno fa soprattutto in miniere in Africa nel Congo in particolar modo si sfruttano i bambini per fare questo per cui vengono violati diritti umani Laura bisogna come dire si fa SG SRAI però bisogna poi vedere tutte le varie sfaccettazioni esatto un approccio olistico permette di diciamo flegare tutte le caselle e non di eliminare a priori soltanto alcuni settori questo è molto importante ripeto e concludo noi lo facciamo ormai da tempo soprattutto nello spazio il liquido abbiamo autorizzato in Italia recentemente un fondo infrastrutturale abbiamo un fondo di private equity che ha una forte valenza impact e soprattutto direi siamo leader da 50 anni sul mercato immobiliare quasi tutti i nostri fondi hanno un indice GRESB è un indice che sostanzialmente attesta quella che è l'impatto ISG appunto dell'investimento immobiliare di questi 33 prodotti 26 sono appunto retati come green star da GRESB e alcuni una buona parte hanno 5 stelle appunto GRESB concludo grazie 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 mille allora i due fondi pensione farei una domanda uguale per quanto riguarda IORP2 volevo capire se segna davvero una svolta cosa state facendo e cosa pensate di fare nei prossimi mesi a questo punto visto che dal primo febbraio è entrata in vigore la IORP Mariani mi rimasta in mente l'immagine del direttore Anselmi riguardo il sistema immunitario in realtà IORP2 alzerà molto le nostre difese immunitarie il sistema già esiste ma sicuramente verrà fortemente rafforzato noi esistiamo da circa 18-20 anni e quindi potremmo immaginare che ormai arrivati in una fase adulta come una volta si faceva all'inizio del servizio militare ci faranno una bella iniezione con tutti i vari vaccini una cura d'urto e sicuramente è un passaggio molto importante l'analisi di GAP richiamato appunto nella relazione introduttiva sarà il punto di partenza noi per la nostra esperienza avendo fatto alcune cose anche volontarie il sistema qualità il modello 231 una parte di questo percorso lo abbiamo già iniziato a fare da alcuni anni ma come tutti dovremmo partire da questa analisi per poi adeguarci ritengo che il tema ISG all'interno di questo adeguamento è un tema non unico non centralissimo ma comunque rilevante soprattutto se combinato all'altra direttiva europea sui diritti degli azionisti perché segna come è stato richiamato alla fine della relazione introduttiva un salto di qualità noi nel 2014 siamo stati il secondo fondo contrattuale a sottoscrivere i PRAI l'anno scorso con la selezione dei gestori abbiamo fatto sì che tutte le nostre gestioni abbiano integrazione dei criteri ISG tutti i nostri gestori sono sottoscrittori dei PRAI e pensiamo che dobbiamo fare ancora molte cose il 2019 sarà un altro anno di forte innalzamento di impegno su questo aspetto se sul lato gestorio il fondo pensione e sul lato di monitoraggio e di rischi il gestore deve essere protagonista solitario nella sua visione sicuramente nel engagement nel azionariato attivo e nell'esercizio dei diritti di voto sempre per un tema di costi che non possono diciamo essere gravati eccessivamente sulla posizione degli iscritti dovremmo trovare anche qui dei momenti di condivisione con gli altri fondi a suggestioni fa scuola perché con l'SGR rappresentata in molte aziende italiane ha dato un modello vedremo noi l'ambito dei fondi contrattuali se riusciremo a trovare il nostro modello per fare sinergia grazie dottor carfizzi si allora velocemente se mi consente un velocissimo passaggio rispetto alla tematica affrontata poco fa volevo fare una precisazione cioè io ritengo che non bisogna mai dimenticare mai dimenticare qual è la natura di un fondo pensione complementare in Italia che è quello di pagare le pensioni complementari il giorno x il giorno x ovviamente è quello quando l'iscritto va in pensione quindi il nostro obiettivo principale è quello di salvaguardare il capitale che ci è stato affidato e di portare a caso ovviamente un rendimento soddisfacente giusto per darvi un'idea di quello che voglio dire quando l'iscritto legge la comunicazione periodica tra parentesi se la legge quando l'iscritto si avvicina al sito web del fondo tra parentesi se si avvicina la prima cosa che va a vedere se non l'esclusiva cosa che va a vedere qual è stato il rendimento che il fondo ha conseguito addirittura alcuni iscritti ci hanno chiesto voi perché non pubblicate tutti i giorni la quota discorso cultura è una cosa culturale allora sicuramente non va a vedere se abbiamo investito nell'SRI o negli SG va bene ma va a vedere però un attimo devo interromperlo un secondo perché lei sta facendo un discorso di immagino quarantenni cinquantenni io ho 25enne perché dovrei investire in un fondo che mi lascia un mondo che fra 40 anni è inquinato sono diverse prospettive però volevo concludere con questo non vuol dire che noi non prestiamo attenzione all'economia reale agli SG ho detto prima che rispetto ad un portafoglio investito nel decorrelato di 324 milioni addirittura il 93% è investito nell'economia reale non l'ho detto prima lo dico adesso di questo portafoglio il 44% 44% è investito negli SG quindi ci tengo a sottolinearlo però vi permetto di dire non dimentichiamo comunque la natura del fondo pensione per quanto riguarda invece il discorso della IORP2 noi già da tempo abbiamo preso atto già nella fase di lavorazione della IORP2 di quelle che sarebbero state le novità tantissime le avevamo già recepite da tempo mi riferisco per esempio al risk management alla funzione della revisione interna e potrei dire tante altre cose naturalmente stiamo aspettando le direttive per chiudere un po' tutto il cerchio di quelli che staranno poi adeguamente in linea anche con le indicazioni che ci fornirà l'organo di vigilanza grazie l'Empac per quanto riguarda non vi interessa l'OIORP2 anche se ha detto che alcuni tratti di questa normativa potrebbero essere integrate anche da voi allora le faccio un'altra domanda da Colinelli l'orizzonte temporale l'orizzonte temporale è lungo è una condizione ossiene qua non ne diceva anche prima il dottor Carfizzi per alcuni investimenti ma è una vera prorogativa per gli enti previdenziali? sicuramente sì nel senso che avendo nel nostro caso come tematica quella di soddisfare come obiettivo principale l'equilibrio previdenziale tra contributo e prestazione nel lunghissimo termine noi siamo tradizionalmente un investitore di lunghissimo termine che però deve fare comunque i conti con il mercato quindi tanto per fare l'esempio che era stato fatto da alcuni colleghi prima al 31-12-2018 in ogni caso abbiamo dovuto rendere conto agli organi al collegio sindacale ai revisori redagendo il bilancio del motivo per cui gli investimenti a mercato a fine anno avevano avuto questa grossa problematica della caduta proprio in coincidenza con il 31-12-2018 abbiamo in ogni caso la possibilità di fare una spiegazione che non è prettamente collegata a obblighi normativi però abbiamo comunque l'obbligo anche di cercare di fare una stabilizzazione delle performance che ci consenta di raggiungere questo obiettivo strategico dell'equilibrio previdenziale di lungo termine lo facciamo attraverso un modello di portafoglio che è un modello integrato asset liability management che ci consente di inserendo i nostri parametri attuariali inserendo le prospettive economico-finanziarie giungere a un obiettivo strategico di suddivisione degli investimenti tra le varie categorie di investimento in modo da orientare i nostri investimenti ritattici con questa logica questo è il cuore ed è strettamente legato al tema del lungo termine aggiungo che in maniera si diceva nel passato satellite adesso non si usano più queste tematiche in gestione però hanno la stessa valenza nel senso che si dice il correlato lo devo collegare con una diversificazione attraverso una quota parte di decorrelato e io questo come ente previdenziale la inserisco nell'ambito che prima ho definito non generale come non liquido noi nelle nostre corde abbiamo una forte vocazione sul real estate abbiamo spostato anche la nostra attenzione su quelli che prima abbiamo definito appunto investimenti alternativi io aggiungo che quasi in automatico su tutto questo passaggio che anche aiuta a migliorare la diversificazione degli ambiti non liquidi c'è una tematica sottostante di ESG che è quella collegata al fatto che i temi trattati prima da Laura sono spiegati dai gestori che fanno investimenti private equity o di tipo infrastrutturale specificando che cosa c'è dietro e quindi a volte anche dandoci alcune indicazioni su quanto effettivamente ancora ci sia da fare però io guardo sempre il bicchiere in mezzo pieno e dico in parte comunque vedo che è già stato fatto e quindi fa gioco per noi che abbiamo l'obiettivo di stabilizzare le performance quello di contare su una base di ESG che stabilizza è stato osservato la performance nel tempo se non altro perché evita di andare su realtà che hanno gli alti e bassi collegati alle cadute di stile che hanno avuto alcune realtà non gli ESG grazie io dico che sono stati bravissimi i relatori no domande non ne abbiamo perché diciamo è un format chiuso questo qua mi spiace e ringrazio i relatori siete stati veramente bravi nei tempi a differenza del moderatore che si è assentato invece ringrazio la dottore infatti ringrazio la dottoressa Anselmi per essere stata anche qui con noi fino alla fine Arianna che ha presentato anche per me e alla prossima speriamo che la IORP2 venga un attimo solo che c'è Arianna domani una conferenza sulle novità della previdenza complementare IPEP domattina alle 9.30 infatti l'altra faccia della IORP2 guardate chi di voi non l'ha visto al piano di sotto c'è la food court che veramente offre dei piatti davvero particolari buon pranzo a tutti Arianna grazie grazie grazie